ciao ragazzi allora oggi sono andato un attimo in fumetteria intanto che dovevo andare a prendere le scarpe sono passato e c'erano 2 o 3 persone e basta ho preso 2 gauve già aperte e poi mi sono fatto dare 2 carte molto importanti allora dal primo gauve vi faccio vedere ho sbustato una ultra di merda questo non lo do questo no questo no questo no ok 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 poi nel secondo scusate ho sbustato una ultra rara questo no 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 e la ultra rara è scaraton posso darla non 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 do solo queste tracce e il resto tutto scusate scusate allora due carte una da gauve e una da extreme victory extreme victory super che è una safe zone una una testa di farla scambiare da un altro mio amico comunque è mento la bustina che è smentissima è così tagliata la bustina non la carta è mentissima la safe zone e dopo il ciccionazzo eccolo qua neofonton da 4500 è veramente bello beh 4500 d'attacco è mentissimo non lo do c'era anche ultra mi hanno preso ghost cioè mi hanno scambiato ghost perchè ultra lo aveva già dato un bambino c'era lo sneak lo ha sbustato ghost e ultra lo sneak ultra l'aveva dato allo sneak se non se non mi ricordo male comunque la safe zone non la do queste non le do queste no e queste qua le posso dare tutte anche lo scarto ultra ah comunque vi dico una cosa vendo tutto adesso eh non anche smetto ma mi preferisco vendere vende basta poi posterò il video del trade ma vabbè dopo questo il video del trade ma vendo solo non non scambio poi per i prezzi contattatevi in mb ah comunque la safe zone scusate me la posso dare questo no questo no questo si va bene al video del trade tra poco qui mi 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 Grazie a tutti.